Giorno 306. Oggi c'è stata una serie di esplosioni nell'aeroporto russo della regione di Saratov che le forze russe utilizzano per condurre attacchi missilistici sull'Ucraina. Secondo fonti russe, gli ucraini hanno utilizzato droni per attaccare i bombardieri strategici stazionati nell'aeroporto di Engels. Anche se dichiarano che la contraerea russa li ha battuti, alcuni droni sono riusciti comunque a lanciare i loro missili colpendo l'aeroporto con almeno due di essi. Vista la grandezza delle esplosioni è molto probabile che i missili abbiano colpito i loro vessagli causando la morte di tre soldati farendone altri quattro e facendo scoppiare un incendio di circa 120 metri quadrati. Tuttavia questa è solo la superficie della situazione in cui l'esercito russo si è ritrovato. Le implicazioni infatti sono molto più riavi ed ecco perché. Prima di tutto, l'aeroporto di Engels si trova a 624 km dalla posizione ucraina più vicina. Questo mostra nuovamente che gli ucraini sono in grado di colpire obiettivi ben distanti dalla linea del fronte. Le conoscenze tecniche delle forze ucraini in materia di droni non fa altro che crescere e la frequenza e intensità di questo tipo di attacchi aumenterà quasi sicuramente. Il fatto che i droni ucraini possano volare per tutta questa distanza senza essere intercettati o abbattuti mostra un'enorme debolezza delle forze di difesa aerea russe. Ciò mostra inoltre che c'è un'enorme scarsità di mezzi contraerei all'interno della nazione, con la quasi totalità dei mezzi schierata nelle parti est e sud dell'Ucraina o vicino al confine. Una volta superato possono praticamente colpire qualunque obiettivo. Inoltre, come se la capacità ucraina di colpire così a lungo raggio non fosse già una notizia abbastanza grave per i russi, l'aeroporto colpito è ad alta importanza strategica. Come già detto in precedenza, l'aeroporto di Engels viene infatti utilizzato per schierare aerei capaci di portare testate nucleari che ora vengono utilizzati per lanciare missili durante gli attacchi aerei. Questa è già la seconda volta che accade. Infatti il 5 dicembre gli ucraini avevano attaccato lo stesso aeroporto nella medesima maniera, poche ore prima del pianificato attacco missilistico. Questa è prova che i russi non hanno imparato dal precedente errore e non hanno allocato più difese su un obiettivo strategico. Al momento i rappresentanti dell'esercito ucraino stanno avvertendo di un possibile attacco missilistico russo prima della fine dell'anno, atto a creare l'illusione di aver fatto progressi con la cosiddetta operazione speciale. Se gli ucraini potessero celebrare il nuovo anno come se non ci fosse una guerra in corso infatti, causerebbe scontento tra le ali più radicali e rumorose del popolo russo, quindi sarebbe logico cercare di spegnere le infrastrutture energetiche ucraine alla fine di dicembre. Questo ci porta alla conclusione che le forze ucraine potrebbero stare agendo preventivamente cercando di diminuire le probabilità di un coordinato e massiccio attacco missilistico. Un attacco mancante di coordinazione infatti permetterebbe agli ucraini di abbattere più missili e se questa era l'intenzione del piano sembra proprio star riuscendo. Le ultime notizie suggeriscono che i russi stiano spostando 6 TU-95MS nelle profondità del territorio russo. Fino a ieri i russi avevano 3 TU-160 e 12 TU-95MS nell'aeroporto di Engels. Dopo queste manovre in teoria sarebbero rimasti 3 TU-160 e 6 TU-95 pronti all'uso ma essendo i droni riusciti a colpire alcuni dei loro obiettivi i numeri sono decisamente più bassi. In generale possiamo dire con sicurezza che nel breve periodo l'aeroporto di Engels è stato correttamente demilitarizzato e non ci aspettiamo attacchi missilistici provenienti da questa posizione.